Credo sia stato raggiunto un buon risultato perché continuiamo a garantire la quantità e la qualità dei servizi. La nostra è una città in cui chi si trova in una fase di bisogno viene adeguatamente supportato, è un centro occupazionale tra i più importanti della provincia di Arezzo e dove il mondo dell'associazionismo per proprio merito è cresciuto veramente tanto in questi anni e l'amministrazione si è fatta a trovare pronta per supportarlo. Questo quadro viene mantenuto nonostante che le entrate da Poderrota con la chiusura della discarica a settembre 2022 si siano ridotte significativamente e nonostante che in questi cinque anni abbiamo dovuto affrontare un biegno di pandemia che ovviamente ha messo in difficoltà tutti, compresi gli enti locali. Però dei risultati significativi sono stati raggiunti. Veniamo proprio da pochi giorni dall'inaugurazione di due beni confiscati restituiti alla collettività uno dei risultati più belli probabilmente di questo mandato e nei prossimi mesi nuove opere partiranno e altre invece proseguiranno. Faccio riferimento per esempio alla costruzione del nuovo asilo nido, al consolidamento del ponte di Piantravigne, ai lavori in piazza Canevaro di riqualificazione, ai lavori che partiranno in piazza Fernina, così come all'impegno che abbiamo in questo momento anche per la riduzione del rischio idraulico, per la realizzazione prossima a venire della pista citopedonale Le Coste-Casello e per l'area verde e il parcheggio attrezzato della Badiola, solo per citarne alcuni che sono molto importanti. Senza dimenticare che vanno avanti i lavori della linea riabilitazione toscana di cui noi siamo soci e che potenzieranno il polo socio-sanitario e che proprio nei prossimi mesi partiranno anche i lavori di realizzazione in collaborazione con l'ASL della nuova casa della comunità AB. Infine, cosa molto importante, estendiamo e potenziamo ulteriormente le aree industriali in modo tale da contribuire ulteriormente al lavoro e al benessere del nostro territorio.